Salve ragazzi e bentornati alla carriera allenatore Allora ragazzi continuiamo con il nostro mercato folle Perché appunto stiamo facendo qualcosa di incredibile Nella scorsa puntata sono arrivati in un colpo solo 2.87 Che sono ovviamente Hakimi come nuovo trezzino destro E Zaniolo come nuovo trequartista E stava per arrivare anche Donnarumma Che chissà magari arriverà quest'oggi, non lo sappiamo Comunque ragazzi, come al solito prima di iniziare Gli ho venuto a lasciare un mi piace E ad iscrivervi al canale per essere sempre al giornale Per continuare a supportarmi E anche a commentare qualsiasi vostro dubbio, consiglio o perplessità E a seguirmi sulla pagina Instagram Il link del profilo è come sempre in descrizione E anche a sostenere e supportare il canale tramite una donazione Il link del profilo è come sempre in descrizione Comunque ragazzi, prima di continuare Giustamente facciamoci un piccolissimo resoconto Allora, il primo botto è stata la cessione di Guler Alla società ad 80 milioni Poi abbiamo venduto Sommer E dobbiamo ancora rimpiazzarlo Invece Guler l'abbiamo rimpiazzato con Zaniolo 80 incassati, 72 e mezzo spesi Quindi anche una plusvalenza Poi appunto Aude è venduto per 24 milioni Ma lui appunto era in più Stessa cosa per Bamba, 6 milioni e mezzo E solamente da questi due 30 milioni e mezzo Che sono tanti alla fine Acquistato a Kimi come sostituto di Livramento Che appunto è partito ed è andato in Inghilterra Al Manchester City Rimpiazzato con Hakimi Abbiamo speso 12 milioni in più Però ragazzi comunque per Hakimi è un prezzo Estremamente ragionevole Quindi ragazzi, allora Innanzitutto, prima di iniziare Vi dico che stiamo per vendere anche Esharawi all'Arsenal per 25 milioni E quindi bisognerà prendere una nuova alla sinistra E poi ci manca da vendere solamente Serdemir E dopo queste cessioni E dopo che saranno rimpiazzate Appunto proveremo a fare anche altre cessioni Per esempio io, Scalvini e Vitic Vorrei metterli entrambi sul mercato E prendermi due nuovi difensori centrali Però ovviamente ragazzi per fare ciò Bisogna andare avanti Quindi avanziamo Partenza di Chi è questo qui che sta partendo? Ragazzi il livramento Non l'abbiamo visto già nella scorsa puntata Quindi ok Va bene Si è pagato tutto Tripla offerta Madonna per Xavi Simons Serdemir dal Torino E Scalvini Senza che io dicessi nulla Mamma mia ragazzi Cosa succede? Allora iniziamo da quella più leggera ovviamente Serdemir al Torino Anche direi più che realistico Andiamo a trattare Chiedendo anche Non so 8 milioni Secondo me ci potrebbero stare Proviamo ad incassare il più possibile 8 milioni Poi è una destinazione che ci sta Ma secondo Juric O comunque secondo il Torino È un'offerta eccessiva Speriamo che ne arrivino altre Sinceramente Perché è importante Vendere a suo punto anche lui Perché ragazzi Questi piccoli soldini Poi sono importanti Per gli stipendi Per i contratti Quindi fidatevi Tutto è importante Comunque Farò una ancora che deve partire Xavi Simons Allora Faccio prima lui Perché teoricamente Non vorrei vendere Vorrei che restassi Il sostituto di Zaniolo Appena arrivato E Però ragazzi Qua sta scritto 117 milioni Mi sembra sinceramente Eccessivo Però Visto che sta scritto Io vado a chiedere anche 130 milioni Perché Se mi danno 130 milioni Per un 82 Sinceramente Vado a Pompei A piedi Cioè Roba del genere Quindi 130 milioni Ok Effettivamente erano tanti Non mi aspettavo Che accettassero Ci riprovo Perché Diciamo che voglio Fa saltare la trattativa Il fatto che Costi così tanto Secondo me Vuol dire anche Che cresca tanto Quindi secondo me È un'ottima cosa Salgono a 108 Ragazzi Mamma mia Quanto vale Xavi Simons Sinceramente Non me l'aspettavo Ma adesso ragazzi Scalvini Ecco lui Effettivamente Vorrei proprio venderlo Però vorrei anche Incassare bene Quindi Io provo a fare 75 Potrebbe essere Troppo Ma se magari Me lo accettassero Potrei prendere Il sostituto Senza problemi Proprio Quindi 75 milioni Leverkusen Vediamo Accettati Subito Ma io facevo 80 Se me lo dicevate La stessa cosa È successa con Guler Quando Quanto cambia Quando metti Un giocatore Sul mercato O quando Non lo metti Con Guler Appunto è successa La stessa cosa Vabbè Comunque 75 milioni Vanno bene Ricordandovi Sempre Che io Vorrei prendermi Un giocatore Come Marchignos Addito Marchignos Che è ancora Un giocatore Del Paris Saint-Germain Sembra che io Lo stia Indebolendo Apposta Perché dobbiamo Farci la Supercoppa Contro Però ragazzi Alla fine Sono casualità Che sono tutti Giocatori Che costano poco Ma che sono Fortissimi Marchignos Cosa a 31 anni Ma è un 90 Secondo me Sarebbe anche Interessante Renderlo Il capitano E poi ragazzi Costa veramente poco Cioè Se arrivano 75 milioni Facciamo anche La plusvalenza Quindi C'è Raga C'è qualcosa Un 84 E Un 90 Cioè ragazzi È troppo Cioè Quando vedo queste cose Proprio Mi eccito Però ovviamente Ragazzi Dobbiamo attendere Le ufficialità Addirittura Qui mi esce Un allenamento Che non avevo mai fatto Alla quarta stagione Fantastico Ma fortunatamente Arriva subito Un'altra offerta Per Sedemir Stavolta dall'Inghilterra E Watford Va benissimo Andiamo A ritrattare Vediamo un po' Se stavolta Andrà tutto a buon fine Questa volta Provo 7 milioni e mezzo Vediamo Sono fermi a 5.2 Quindi facciamo 6 e mezzo Sinceramente Non voglio esagerare 6 milioni e mezzo Che vengono accettati Quindi stessa Trattativa Fatta Con Bamba Comunque ragazzi Ancora non posso provare A riprendere Donnarumma Devo aspettare Esattamente un altro giorno Se non sbaglio Quindi andiamo Giusto giusto Quel poco avanti Sahilovic Al Manchester United Speriamo che se ne va Questo qui ragazzi È quello del Monza Che ci fa sempre gol Quindi speriamo Che vada In Inghilterra Così Siamo a posto E fu così Che li beccamo In Champions Comunque Scalvini Ancora Lione E ancora Serdemir Allora Vediamo un attimo Per Serdemir Questa volta Ovviamente Provo a fare Un'offerta Più alta Così Può essere Che incassiamo Qualche soldino In più Stessa cosa Proverò a fare Anche per Scalvini Questa volta Ne chiedo 80 di milioni Comunque 7 e mezzo Per il buon Serdemir Facciamo 7 Così 500.000 in più Accettati Speriamo che voglia Andare in Belgio Ma penso che Accetterà Di andare a Watford Invece Ragazzi Questa qui Di Scalvini È molto importante Perché Incassare di più Con Scalvini Sinceramente Potrebbe fare La differenza Pure quei 5 milioni Comunque ragazzi Possono Assolutamente Fare la differenza Quindi facciamo 80 milioni Che sono veramente Tanti Ok Però ragazzi Guardate lì Cioè aumenta Veramente di poco Quindi Effettivamente Si può fare Ad 80 milioni 74 Secondo me Questi qua 79 Accettano Ma proprio A mani basse Vediamo 79 milioni Accettati Beh A sto punto Speriamo Vada in Francia Beh comunque ragazzi C'è da dire Che stiamo per vendere Un capitano Ma ne sta per arrivare Un altro Intanto Stiamo vendendo Abbiamo venduto Il faraone Il charavi Che quindi Vole in Inghilterra Se ne va All'arsenal 25 milioni Per noi Bisogna prendere Quindi anche Un nuovo Attaccante Io sinceramente Già so Chi vorrei Ok Potevamo incassare Giusto qualcosina In più Però sinceramente È una trattativa È una trattativa Più che soddisfacente E in più Stop trattative Per Scalvini Che quindi ragazzi Molto probabilmente Andrà proprio A Lione Fantastico ragazzi E in più Cop Miners Cop Miners Inizia Occhio ragazzi Perché se mi fanno Una bella offerta Forse c'è la possibilità Di prendersi anche Un giocatore Come Camavinga Però ragazzi Sarebbe veramente Complicato Comunque ragazzi Noi proviamo A trattare Vado a chiedere 80 milioni Perché poi appunto Non sarebbe per nulla Facile Rimpiazzarlo Però 80 milioni Accettati subito Niente niente Ragazzi Non so più Che cosa dire Questo Questo è tutto È qualcosa di incredibile Quest'anno E questo fosse In un certo senso È un problema Perché Non me l'aspettavo Non volevo Perché appunto Non ho Altri centrocampisti Dal piede sinistro Eccetto Camavinga Però ragazzi Camavinga costa Più di 100 milioni Qua se ci va bene Ci danno 74 milioni A disposizione E non sarà semplice Ragazzi Non sarà semplice Adesso Questa gestione Forse cambia un po' Tutti i piani Vediamo però A parte tutto Perché ragazzi Ci stiamo muovendo bene Soprattutto in entrata Stiamo spendendo poco Cioè comunque poco Per quello che Per quello che siamo adesso Cioè sono comunque Ottime trattative Sono tantissimi soldi Ma poco Rispetto a quanto Si poteva appunto Incazzare Comunque Serdemir Alla fine decide Di andare Come immaginavo In Inghilterra Mi va bene Interesse per Nets Ok Quindi venduto anche Serdemir E con Serdemir Non dobbiamo fare Non dobbiamo fare nulla E invece con Esharavi Si in più Devo ricontrollare Per Donnarumma Quante cose Che si devono fare Le facciamo tutte Adesso tranquilli Allora Hub Mercato Con Cam Allora Abbiamo visto che Stiamo aspettando Di vendere Coppa Miners E Scalbino Questo l'abbiamo capito Poi Sul mercato adesso Non c'è più nessuno Piano piano Esharavi Prima O per meglio dire Il sostituto Di Esharavi Ragazzi Io Non vorrei spendere tanto Perché Per Esharavi Abbiamo incassato Solamente 25 milioni Secondo me Un sostituto Si può avere Anche con poco E Con poco Intendo Andarsi a prendere Un giocatore Come Alan Velasco Alan Velasco Che Gioca ancora In America Addirittura Quindi Ragazzi Ci potrebbe stare Anche per questo motivo E Langa È vantaggioso Per il prezzo Ma non per lo stipendo Però ragazzi Sicuramente È da considerare Vediamo un po' Quanto Che statistica è Langa Fatevi vedere Molto Molto veloce Molto forte Forza 62 1,78 Tante caratteristiche Però ragazzi I tiri Qua dice 70 di tiro 75 freddezza Ma questo qui Se lo facciamo crescere Noi sicuramente È un grandissimo giocatore Diventerà un grandissimo giocatore Però giustamente Fatemi vedere Il buon Il buon Caro Il vecchissimo Velasco 34 milioni Stipendio Veramente basso Belle statistiche Di tiro A 70 Anche lui Quindi ragazzi Forse qua In entrambi i casi Si casca bene Però il Lang È un 80 Velasco È un 82 C'è da considerare Pure questo Ma io vorrei Alan Velasco Cioè la mia scelta Era Alan Velasco E questo fatto Che il piccolino Che lo mette in campo Il sudamericano Secondo me ci vuole sempre Già abbiamo A sinistra Romero Abbiamo tanti argentini Secondo me Verrebbe più Che volentieri È realistico Perché appunto Lo prendi da una squadra Come il Dallas A te ti serve Come sostituto Quindi ci sta ragazzi E proprio per questo Provo a contattare Il Dallas Però chiaramente Voglio spendere poco Ma veramente poco Provo a fare 28 milioni Vediamo No Stiamo perdendo solo tempo Ma va bene Scusami Scusami Alan Scusami Non lo faccio più Però a prescindere Vorrei aspettare Una nuova opportunità Per trattare Perché secondo me Velasco Ci può stare Comunque ragazzi Adesso Torniamo a noi Perché qua abbiamo ancora Un portiere da acquistare Allora C'è sempre Tre staggers Vincolato A parte tutto Però ragazzi Abbiamo detto Che vogliamo sgravare E sgraviamo Donnarumma Riproviamoci 95 milioni Sappiamo che Sui 90 Verrebbe via Ragazzi Sono sicuro Di questa cosa E voglio prenderlo Ragazzi Voglio portare Donnarumma A Genova Perché Costa poco Cioè Costa tanto Ma poco Per quello Che dovrebbe costare Quindi Non posso Non prenderlo Lui è il portiere Definitivo Quindi va preso Assolutamente Questa volta Però Però Provo a partire Da ben 90 milioni Sinceramente 90 milioni Ecco qua Ragazzi Siamo soddisfatti Lo sapevo 90 milioni Era la cifra giusta Forse potevo risparmiare Qualche milioncino Però quando si parla Di cifre così alte Alla fine Forse non fa neanche Troppa differenza Comunque Trattiamo Sì ragazzi Gigio Donnarumma Sì ragazzi Con il rischio Di perdere Tanti soldi In un certo senso Perché Appunto C'è solamente Questa cosa Di cop Manners Che mi destabilizza Un attimo Per il resto Sono sicuro Di fare tutto Vi dico La mia più Sincera la verità Comunque Accettiamo Questo contratto Lo stipendio Che comunque Se lo abbassa Ragazzi Se lo abbassa Cioè Questo stipendio Non mi dispiace Neanche Io farei anche Così Secondo me Ci potrebbe Stare Vediamo 105 2 milioni No Non esageriamo Ficciamo 110 Così 110 2 milioni Che mi dici Mi dici che non va bene E allora 110 2 milioni e mezzo Per tagliare La testa al toro Ma potrei dargliene pure 3 Visto che Appunto Se lo abbassato di tanto Lo stipendio Quindi direi di fare Effettivamente così 150 mila Non glieli voglio dare Ma 110 Sì E qua ti do 3 milioni Ok Vediamo adesso Che mi dici Ha bisogno di tempo Per valutare Questa offerta Ma come ragazzi Pure il giocatore Così ha bisogno di tempo Ok Comunque Nel frattempo Ser Demir Come abbiamo già visto Ufficialmente Al A Watford Adesso ragazzi Che ci manca Velasco Dobbiamo aspettare E Basta Non mi ricordo Ragazzi Perché tanta roba Sì ragazzi Dobbiamo attendere Le ufficialità Semplicemente questo Quindi avanziamo Tranquillamente Ed eccoci qua Questo ragazzi Giorgio Scalvini Applausi per Giorgio Scalvini Il capitano Della scorsa stagione Ragazzi Scalvini Che arrivato anche lui In serie B Il primo acquisto In assoluto Se non sbaglio Di questa carriera Giorgione Scalvini È diventato forte Con noi È diventato uomo È diventato un giocatore Che può essere acquistato Per addirittura 80 milioni di euro Quindi sicuramente ragazzi È stato Un giocatore Veramente importante Che però Visto che aveva La crescita bloccata Forse Vista la nostra Dimensione attuale Che sembra essere Una dimensione Veramente Impressionante Comunque Era arrivato il momento Di pensare Alla sua cessione Comunque 79 milioni per noi Qua addirittura 83 Ma non mi sembrava Quindi sicuramente Ottima trattativa Adesso ragazzi Aspettate un attimo Perché Ufficiale E aggiornamento Dell'osservatore Ok Quindi ragazzi Adesso Non calcolando Donnarumma Abbiamo 238 milioni Però appunto Non calcoliamo Donnarumma Capomayers Ancora deve partire Quindi devono entrare Ancora i suoi soldi Pensate un po' Però ragazzi Adesso ci serve Il nuovo Difensore centrale Difensore centrale Che come abbiamo detto Vorrei Che sia Che sarà Che deve essere Marchignos Che è un 90 31 anni Ma costa veramente poco Scalvini venduto A 79 milioni Ci facciamo anche Una decina di milioni Di plus valenza Quindi ragazzi Provo a contattare Il Paris Saint Germain Lui verrebbe Come uomo esperto Per fare anche Il capitano Della squadra Per guidarci In Champions Un giocatore Che ha vinto Tanto in carriera Un giocatore Che è stato Molto importante E che ovviamente Lo è ancora Altrimenti Non provavo A prenderlo Quindi ragazzi Come detto Non costa tanto E provo 58 milioni Eccessivo Speriamo Speriamo di no L'impressione Che stiamo perdendo tempo Io ci provo sempre Però Sono consapevole Delle difficoltà In questi casi Però Non vi preoccupate Perché saranno questi I nostri acquisti Assolutamente Così sarà E ok ragazzi Nuova ufficialità Copminers Che se ne vola In Francia Anche lui 80 milioni 82,6 La migliore offerta Possibile Un'altra Cessione Veramente Pesante Ed importante Ed oggi è che ci avviciniamo Sempre di più Alla partita Contro il Tottenham Donna Rumba Continua a rifiutare Ma io vado A ritrattare Sempre Allo stesso modo Ma stavolta Facciamo che provo 115 Con 3 milioni Secondo me Va bene Attualmente abbiamo Tanti di quei soldi Quindi Non ci sono problemi Ma continuo a rifiutare Ma scusami Ma quanti ne vuoi 120 mila E 3 milioni Dai Ma sei stupido E allora facciamo così 125 mila E 2 milioni e mezzo Ti prego Ti prego Ma si è rotto Si è impallato Mi rifiuti anche così Ah grazie Finalmente 125 mila Euro a settimana Donna Rumba Che arriva come uno Dei tanti A 92 Il giocatore più alto Che avremo in rosa Per tutta la carriera Probabilmente Ma Ma quello è Akimi Ragazzi Akimi Fa il preparatore Ok vabbè Non ci facciamo caso Ragazzi Comunque arriva Gigione Donna Rumba Quello è proprio Akimi Cioè Akimi Non so FIFA cosa vuole farci capire Cioè Zaniolo Pure Vabbè Forse vuole far capire Che viene accolto Dai compagni I nuovi acquisti Vabbè È carino Sì sì Mi piace Mi piace Mi piace Eccolo qui Eccolo qui Con la maglia Del Genova Ragazzi Abbiamo portato Donna Rumba Al Genova E abbiamo ancora Una barca di soldi Abbiamo costruito Tutto noi Senza aiuti Di budget Aumentati Semplicemente facendo Il momento Di fare i calcoli Perché Appunto Attualmente Quanti soldi abbiamo Ma come 215 milioni Non mi trovo 215 Ancora Ma veramente Beh Allora Ragazzi Prendo anche il telefono Che ho avanti Così Non rischio di sbagliare Poi direi di chiudere Anche il video Perché secondo me È arrivato il momento Comunque Allora Teoricamente Marchinhos Sui 60 Ma facciamo Esageriamo Facciamo anche 65 milioni Verrebbe via Invece Velasco Sui 35 E stiamo Già a 100 milioni Solamente con questi due Probabilmente saranno Meno 100 milioni E in più Ragazzi Adesso Si è aggiunto Camavinga Teoricamente Comunque Un nuovo centrocampista Da dovere acquistare Abbiamo detto Che al centrocampo Uno dal piede sinistro Che si può prendere È Camavinga Praticamente L'unico Ragazzi Ho controllato Ovunque Su internet Vi dico La verità E di proprio centrocampisti Effettivamente Non ce ne sono Oltre a Camavinga Che Sono effettivamente Forti Forti Appunto Superiore All'85 Eccetera Eccetera Camavinga Che vorrebbe A costare tanto E anche se vado Non lo so A fare Quanto posso spendere Quanto posso spendere 120 milioni Siamo comunque A 220 Io ce la faccio Cioè Vabbè ragazzi Stiamo creando Qualcosa di Veramente incredibile Ma le hanno tolti I soldi Di Donnarumma Perché ho Completamente Perso il conto Evidentemente Con Copp Miners E Scalvini Abbiamo fatto Questa cifra 215 E raga Ragazzi Paradossalmente Possiamo provare A prendere Anche Camavinga Proprio a fare Un'offerta Proprio per Chiudere In bellezza Il video Però Ben consapevole Sinceramente Che non sarà Semplice Che vada Tutto a buon fine Secondo me Ragazzi Con Camavinga C'è il rischio Di dover Spendere Anche Sui 130 milioni Però ragazzi Secondo me Paradossalmente Ce la possiamo Anche fare Se siamo fortunati Però ragazzi Poi aspettate Perché poi Ci servirebbe Anche un nuovo Difensore centrale Se vogliamo Vendere Vitic E poi Però lì Ti vendi Vitic Devi essere Bravo Anche lì A trovare Una buona Offertina Ragazzi Vediamo un po' Se Con Camavinga Riusciamo a Tenerlo Sui 100 milioni Già abbiamo Fatto un affarone E in questo caso Ragazzi Visto che Appunto Potrebbe essere L'ultima stagione Sarei disposto Ad utilizzare Anche le clausole Le percentuali Eccetera eccetera Quindi Provo a fare 90 milioni Come base Proprio iniziale Proprio per sondare Un attimo il terreno Ok ragazzi Vogliono effettivamente Tanto Ma io lascio Questi 10 milioni Però qui Faccio 95 Che È quanto vale Vediamo se Cambia qualcosa No Ok Ma proprio per nulla 100 cifra Tonda Così Però qua No L'ho tolta L'ho tolta Sono un deficiente No Ok La posso rimettere Faccio 15% Penso sia questa La clausola Perché Diciamo Non sono molto pratico Di queste cose Però vediamo 100 milioni Ci serve del tempo Beh ragazzi Può essere che Comunque Paradossalmente Intorno a queste cifre Si può fare E mi andrebbero bene Perché ragazzi Non lo vendiamo Un'altra volta Su questo Su questo Sono sicuro Perché Appunto Siamo Agli sgoccioli Andiamo avanti Magari Ci rispondono subito Col cavolo No Manca Una mail Solamente Queste 4 Qui Allora Perrone Romero Ok Vitic Mi dispiace Doverti vendere Comunque Ragazzi Allora Scusatemi Se sono puntate Un po' caotiche Mi ne rendo conto Dove succedono cose Veramente inaspettate Soprattutto per me Però Secondo me Sta venendo fuori Qualcosa di Veramente incredibile E doccia Ragazzi Perché a mercato giuso Penso di Far salire anche Qualche altro Giovane Dalla primavera Perché ce ne sono Molto interessanti E Detto questo Un attimo Abbrosa Donnarumma Uno dei migliori al mondo E ce l'abbiamo noi Vabbè Alla crescita Bloccata Ma Ci mancherebbe altro Con lui sinceramente Lo posso accettare Okoye Sarà il secondo portiere Donnarumma Il primo De Luca Il terzo Incapie Udogi Van Dijk Viti Mi va bene Come seconda scelta Luqueba Ragazzi Luqueba Diventerà 85 Sì ragazzi Sì Sì Vabbè Lui lo possiamo Mantenere Tranquillamente Mi va benissimo Poi ragazzi Eventualmente C'è anche il mercato Di gennaio Perché ragazzi Possono succedere Tante di quelle cose Che non avete idea Marchinhos Manca Vitic Eccolo qui Vitic Più che altro Sarei curioso Di vedere Quanto costa Finanze 18 milioni Quindi 25-28 milioni Potrebbero Xavi Xavi Simons E Vabbè Zaniolo Che adesso È momentaneamente Qui Ma Obiettivo per questa stagione Farlo diventare Un COC Sarà difficile Ma ci proveremo Poi Nusa E Manca Sì ancora Alan Belasco O chissà A questo punto Se ci serve Per i soldi Mi prenderei Anche Langa Tranquillamente Poi Petras Terza scelta Sulla destra Romero E Fatavis SQ Manca Una terza scelta Ma non è importante Attualmente Farias E Chashua Non si toccano Quindi raga Ci siamo Come nostro solito A luglio Già succedono Veramente cose incredibili Perché appunto Siamo ancora a luglio Quindi abbiamo anche Il mese di Agosto Per continuare A fare calciomercato Però ragazzi Abbiamo La partita contro Il Paris Saint Germain Che È già molto importante Io vorrei essere Già pronto Per il 13 agosto Comunque ragazzi Basta Evidentemente Ho parlato Già anche troppo Io per oggi Mi fermo qua Come a solito Mi invito A lasciare un mi piace Ad iscrivervi al canale A seguirmi sulla pagina Instagram E a sostenere il canale Tramite una donazione Noi ci vediamo Ad un prossimo video E ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti